Dovrebbe risolvere domani mattina il problema e cancellare la legge Fornera. La legge è pronta domani mattina, domani mattina, non fra sei mesi, domani mattina. Sì, non è possibile passare il tempo parlando di riforma del Senato, la Costituzione, i matrimoni gay. Qua c'è una legge infame che sta per compiere quattro anni che ha derubato milioni di italiani. Opzione donna, esodati non salvaguardati, gente che rischia di dover stare a lavoro cinque anni in più. Non esiste, non esiste, quindi la legge è disponibile domani mattina a sedersi al tavolo del governo per discutere una proposita di legge anche presentata dalla sinistra. Non è accettabile che Renzi dica della Fornero, parleremo nel 2018. E quindi non vi sentite rassicurati che ieri abbia escluso? Ma figurati, ma vogliamo firme, fatti, non le parole di Renzi in televisione, fatti. Andrete a occupare adesso? Entriamo, vediamo se usciamo.